E' stata eseguita un'ispezione cadaverica sul corpo di Luigi Rizzi, il 44enne di origine romane ma residente a Fossombrone, che sabato notte è uscito di strada mentre era a bordo di una Fiat Cubo poco prima di un ponte in muratura sul rio delle Caldarelle. E' accaduto intorno a Luna, lungo la strada che da bella guardia una frazione di Fossombrone conduce a San Martino dei Muri. Rizzi stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici e quando al mattino la compagna si accorta che l'uomo non era ancora rientrato all'armata e uscita a cercarlo. Ad un certo punto ha sentito dei lamenti provenire da qui, si è affacciata dal parapetto e ha visto l'auto di sotto. Proprio in quegli istanti stavano transitando alcuni biker del gruppo e i briganti di Fossombrone che insieme a un amico del 44enne hanno allertato i soccorsi. In base alla ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri Rizzi non aveva allacciato la cintura di sicurezza e per questo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, poi purtroppo non ce l'ha fatta risalire. Questo è il luogo in cui è successa la tragedia e quello è il punto in cui l'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo giù nella scarpata. Come potete vedere ci sono ancora le tracce lasciate dagli pneumatici. Rizzi, pensate, ha passato una notte intera nelle acque gelide del torrente, almeno otto ore, un tempo lunghissimo che non gli ha lasciato scampo. Il 44enne in ipotermia è deceduto all'ospedale di Fano poche ore dopo a suo ritrovamento. Sono state complesse le operazioni per raggiungere il ferito e per recuperare il mezzo. Per questo intervento sono arrivati i vigili del fuoco di Cagli con un'autopompa e i colleghi di Pesaro con un autogru. L'ambulanza del 118 di Fossombrone è giunta alle 9.40 e i sanitari hanno prestato i primi soccorsi a Rizzi mentre era ancora vigile sul posto. E' atterrata anche l'eliambulanza ma le condizioni dell'uomo non hanno permesso di caricarlo sull'elicottero perché una volta disteso su una lettiga è andato in arresto cardiaco. Era necessario quindi eseguire subito le manovre di rianimazione. Da lì poi la corsa all'ospedale Santa Croce ma per il 44enne non c'è stato nulla da fare. Il suo decesso è stato dichiarato intorno a mezzogiorno. Una morte è questa finita purtroppo all'attenzione della cronaca locale così come la sua nascita. Luigi infatti è stato il primo figlio in Italia ad essere stato concepito da una coppia di genitori paraplegici. A sua volta poi era padre di Terfigli e da Roma si era trasferito a Bellaguardia dopo la separazione della moglie. In tanti ancora increduli hanno voluto lasciare un messaggio sulla sua pagina Facebook. C'è chi ha pubblicato una sua foto o chi ha ricordato invece la grande generosità. Come Fabiola che ha scritto testardo e convinto di avere sempre ragione ma con un grande cuore pronto sempre ad aiutare le persone. A possare il suo pensiero anche palma. Non ci hai aspettato ha scritto sei volato da papà.